Applausi Applausi Scevuti oggi pomeriggio dal Vescovo di Roma e ai successori di Pietro. I membri qui presenti costruiscono solo una rappresentanza di quello di promuovere la santificazione personale e l'avventamento della vita spirituale di ciascun membro di loro che cerchiamo di aiutare. Applausi Applausi Sua beatitudine fu attuale, patriarca di Gerusalemme dei latini. Gerusalemme ha una storia quasi millenaria. Applausi Viene ricca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amo. Grazie Grazie Grazie